buonasera a tutti stasera ci facciamo due belli spaghetti col pomodoro fresco e cacio ricotta ok andiamo a passare la nostra salsa ok andiamo con la nostra cipolla a soffriggere due minuti e poi caliamo il sugo ok pronti con il pomodoro fresco ok e ora ci mettiamo un po di zucchero per levare l'acidità poi lo aggiustiamo di sale non troppo sale perché se dovete mettere il cacio ricotta quello già è salato occhi mescolata pure sale ora un'ora un'ora e mezza fiamma bassa con coperchio ci vediamo più tardi ah no una foglia di basilico eccolo qua e ora possiamo mettere il coperchio passate un'oretta il sugo è pronto il pomodoro fresco denso e ristretto ho appena calato la pasta finito spaghetti col cacio ricotta sugo semplice basilico buona cena a tutti buona cena a tutti